Good morning, anche se direi più buonasera perché qui sono le 4.20 Mister, Master, Maestro, oh semplicemente, oh semplicemente, David Lynch It's January 29, 2022, and it's Saturday here in Nipols, 39 Fahrenheit around 4 Celsius And this means that oggi veramente, quella giornata veramente, 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 veramente fritta Anche sopra la media direi, veramente, fa veramente molto fritto Ma come potete vedere io indosso la mitica maglietta a mezze maniche Perché vi invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto qualche settimana fa Per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo Come vi vedo sempre perché è impossibile, ma quantomeno di combatterlo E ovviamente nella maglietta a mezze maniche ci entra nelle pratiche Per quanto riguarda i pensieri del giorno, sì, lo faccio, il video eventualmente, lo faccio sempre separato da questo E anche dalla quest'altra bellissima inquadratura Today we have, we have those beautiful blue skies, really beautiful And golden sunshine, come luccica, really golden sunshine, all along the way Along the way ovviamente qui già, nel senso già è stato all along the way Perché ormai tra un'ora e mezza ci avviamo alla serata Quindi, bene, in questi casi, che dire, nulla da dire, bene così Say this So, from the mythical wind With the colored curtain Sublime oggi, nulla da dire And it's a green roller shooter Behind me On the top Or in the shot And finally For my mythical keyboard, Yamaha DGX 640 IPG IPG 625 Have a great day In all the people who follow the channel and the reports Un saluto veramente a tutti, mi raccomando Video sui pensieri, eventualmente, sempre separati da questi So I can have a great day in all these people And everyone too So I can have a great day in all these people